Questa stagione la TG di Fabio, assieme alla solita collezione di ricerca, abbina una nuova proposta che si chiama Box, che sta tutta dentro nella nostra scatoletta marrone e è una collezione di tessuti orientata a un abbigliamento informale, un informale chic, quindi non un informale stracciato o casual, ma un informale raffinato, l'abbigliamento che mette l'uomo formale quando toglie l'abito o la giacca.